Benvenuti su Hermes Channel Web TV. Il sai che di oggi? Parliamo un po' della natura, praticamente della zooficoltura, quindi vari tipi di piante e i loro habitat. Ci dà informazioni riguardo Francesco di Castellana Grotte. Ma prima di vederci il video vi ricordo di mettere il mi piace su questo video e se non siete ancora iscritti al nostro canale fatelo oggi! E non dimenticate la campanellina così vi ricorderà ogni quale volta che ci sarà un nuovo video di sai che e se volete potete suggerirci nei commenti il prossimo sai che o un sai che che vi può incuriosire, noi faremo in modo di tenervi contenti! Ed ancora se volete sponsorizzare il nostro programma, contattateci! Ed ora vediamo il video! Salve, siamo presso il vivaio della zoo floricola di Persio Francesco di Castellana Grotta. Il secche di oggi è inerente alla messa a dimora di piante e bulbi stagionale non per il nostro per adornare e abbellire interni ed esterni della propria abitazione. Francesco cosa suggerisci per aggiungere una note di colore nelle abitazioni? Per aggiungere colore in una abitazione sia interno che esterno ci sono una grande varietà di piante, ci sono per l'interno ci sono piante verdi, piante fiorite, rampicanti, logicamente sono cose da adattare alla propria abitazione in base alla luce, in base alle proprie conoscenze delle piante. Cosa fondamentale è conoscere l'ambiente in cui posizionarle. Qui siamo in una serra da piante da interno e potete vedere che ci sono sia piante fiorite che piante verdi alte, piccole, rampicanti. In base al periodo dell'anno ci ha una grande scelta, una grande varietà di piante. Per l'esterno diventa un discorso molto più vario, ci sono piante stagionali, fiorite, sempre verdi lo stesso, come anche per quelle da interno, ma ci si può sbizzarrire con tante cose, perciò sia anche piante da frutto come gli agrumi, anche pesche, albicocche, ormai si può coltivare qualsiasi cosa in vaso. All'esterno si possono anche seminare bulbi per avere delle fioriture primaverili, estive o piante, ortalizi di qualsiasi voglia genere, sia in vaso che in piena terra. Cosa fondamentale per realizzare queste cose è una progettazione, una pianificazione di base, che è fondamentale per una buona riuscita del progetto. Se volessi un albero da frutto nell'abitazione, cosa suggerisci? Un classico di pianta da coltivare in vaso su un terrazzo è, senza ombra di dubbio, un agrumo, che può essere un limone, un arancio, un mandarino, sono piante che si adattano benissimo alla coltivazione in vaso da sempre, insomma, sono piante che danno molta soddisfazione, sia a livello visivo come verde che come frutti. L'alternativa che vi chiede qualche piccola cura in più sono piante di albicocco, pesca, ciliegi, qualsiasi cosa può essere coltivata in vaso. Anche le uva, tralci di uva che si possono fare arrampicare su un pergolato per coprire delle zone calde del terrazzo. Hanno un minimo di cura in più, che però danno una grande soddisfazione. E cosa suggerisci per proteggere le piante più delicate? Per proteggere le piante più delicate, nel periodo estivo il nemico principale è il sole. In quel caso è un po' difficile proteggerle, andrebbero ombreggiate con un telo, mettendoli in una zona del giardino, del terrazzo dove arriva meno sole, un po' meno vento, ma la bella stagione di solito aiuta molto. Il periodo più critico, senza ombra di dubbio, è quello invernale, in cui i venti forti, le gelate possono rovinare le piante. Non tutte le piante, alcune piante. Perciò quelle che sappiamo che sono più delicate vanno spostate addirittura dentro casa, per alcune varietà. Per altre basta mettere sotto un altro albero che rimane sempre verde, contro un muro, oppure dove non si può spostare queste piante. L'ideale è coprirle con un tessuto che evita le gelature. Queste sono le pratiche più comuni per salvaguardare le piante. Parlaci di come trapiantare le erbe aromatiche. Le erbe aromatiche, le piante aromatiche si comportano come tutte le altre piante, perciò necessitano di cambiamento di vaso, in un vaso leggermente più grande. Di solito due misure con un buon terriccio concimato e riposizionarle dove le avevate prima. Se le radici dovessero sembrare particolarmente annerite o invecchiate vanno eliminate, tagliandole con una forbice o sgranando il terreno con le radici rovinate con le mani. Posizionarle nel vaso, come abbiamo detto, di un paio di misure in più rispetto a quello in cui erano posizionate, mettere un buon terriccio e innaffiarle. Come realizzare il compost? Il compost è un concime naturale che si può realizzare tranquillamente in casa da soli, con scarti di potature, di foglie o di cibo, di tutto ciò che proviene dal consumo della cucina, può essere utilizzato per trasformarlo in compost. La procedura è piuttosto semplice, basta accumulare questo materiale in una cassetta ben arieggiata, mantenerlo per un certo numero di settimane e il materiale decomposto si trasforma in compost, che può essere utilizzato o tal quale, perciò preso e messo direttamente sulle piante, come concime vera e proprio, oppure mischiato col terreno per arricchirlo, per renderlo più soffice, più morbido e per utilizzato, come stavo dicendo, per rinvasare le piante di ogni genere, sia da interno che da esterno. Ho il giardino e il mando erboso per prepararlo per l'inverno, cosa suggerisci? La prima cosa da fare in questo periodo è ridurre le innaffiature, dopo aver ridotto le innaffiature si incominciano entro fine mese a effettuare delle concimazioni, in maniera che l'erba acquisisca questa resistenza, questa forza che gli permetterà di non ingiallire, di non rovinarsi durante il periodo invernale. Se abitiamo in zone particolarmente fredde, perciò più dell'entroterra delle nostre zone, conviene addirittura portare della torba sopra il prato, per evitare che le gelate e il freddo lo rovinino. In primavera e estate le operazioni da fare sono quelle di aumentare nuovamente l'irrigazione e riconcimare per permettergli di riprendere in maniera molto vigorosa e sopportare il caldo dell'estate. Speriamo che i suggerimenti di Francesco non siano stati utili e che vi siano piaciuti. Un saluto a tutti. Sai che può interessare o coinvolgere anche te? Grazie a tutti. Grazie a tutti.